un attimo volevo vedere un'altra cosa dove siamo? siamo alla regia siamo alla regia siamo alla regia di caserta siamo alla regia di caserta passeggiamo? maestra passiamo pure il mio papà si? allora vogliamo andare su alla cascata? si camminiamo a piedi stiamo camminando a piedi lo vedete? sembra un viaggio nel tempo sembra un viaggio nel tempo è vero? eh guardate qua le piscine vedete le piscine? però aspettate perché non riusciamo ad avanzare ok ci siamo ci siamo stiamo arrivando alla cascata guardate eh? dove siamo? questo è il ponte di di Ercole eh? dove lo? io ho fatto questo qua quello là che rompono sempre quando passano i camion è vero? questo è il domenico la ponte di Ercole è il ponte di Ercole domenico? ha detto è caduto il ponte di Ercole è caduto il ponte di Ercole non ci fanno più passare eh? sono problemi allora vediamo se riusciamo ad andare avanti no io vedo le cascate cominciamo a vedere le cascate vero? eh sì le cascate no niente non ci porta su vediamo se ci porta un po' su vabbè attacca no si sa che non ci fa andare più più sopra ah sì più veloce non può so no il problema è che non ci porta più sopra aspettate un attimo domenico 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 guarda perché questa donna mi ricordo allora dove siamo qua vediamo se riusciamo a capirlo questa mamma la mamma di domenico questa dovrebbe conoscerla via dei mulini reali sì sì e infatti ci stava scritto ci stava scritto vediamo un pochettino andiamo qua no questa è via dei mulini militari ma è ah si vede che non sono di che certo e vabbè chi è che la conosce qui ma lo sa che non riesco a capacitarmi dove si trova praticamente questa allora in pratica si trova dove sta il ponte di Ercole si si ah 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 ho capito e poi salendo va a San Leucio sì giusto sì va bene vediamo un po' ma va a San Leu noi non siamo di casetta quindi non le conosco quelle strade ho capito allora di qua c'è l'autostrada andando diritto io la conosco andando diritto si va a Sala no si va al contrario al contrario se va al contrario si va a Sala ecco lì si va a Sala lì ah già qui c'è il ponte di Sala praticamente prima del ponte a sinistra via dei mulini militari ah ho capito e poi dove c'è praticamente il senso unico che poi si deve girare tutto intorno giusto? esatto ma io volevo portare la mamma di domenico al lavoro non ci vuole andare al lavoro ma davanti la portiamo al lavoro? che dite? aspetti da dove? da dove scendiamo? da qua? andiamo scendiamo da qui? sì sì avanti non ci andate c'è un classico ancora? ancora? eh ferma 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 sulla sinistra un pochino ospedale eccolo là ecco qua ecco qua esatto allora vediamo un po' signora ci entriamo ecco qua ecco e se invece adesso usciamo dall'ospedale perché in questo momento proprio non è il caso di andarci di affollarlo e ce ne andiamo a scuola? sì vogliamo andare a scuola? allora guidatemi voi chi è più esperta da dove andiamo? avanti avanti eh sì credo avanti ma non è che stiamo andando via perché è la stessa strada andiamo a destra? sì destra no ma ma stiamo andando a casa mia avanti se prendo la strada a destra qua siamo via qua abbiamo un caso a prigire il caffè eh adesso a sinistra a sinistra? a sinistra dove? qua o qua? eh ma qua non siamo a Puccianiello? no a destra eh qua siamo a Puccianiello siamo a Puccianiello siamo vicino a un ufficio a destra quindi secondo me dovremmo andare proseguire qui e stiamo andando a casa mia stiamo andando a casa tua Pietro? eh sì dove siamo qui? mi sono persa qua siamo al cimitero? eh sì andiamo avanti quanto? ok allora aspetti scendiamo a destra a destra a destra per il cimitero di qua? sì sì noi siamo a piedi non abbiamo il cimitero è vero giusto ok ci siamo adesso qua riconosco la strada sì qua è il visito della variante sì esatto andiamo avanti andiamo avanti eccoci qua dove siamo arrivati? ok al cespuglio al cespuglio giriamo siamo a piazza Pitesti lo vedete bimbi? sì sì e allora andiamo avanti andiamo avanti ci siamo quasi eh ci siamo quasi siamo arrivati ecco la nostra scuola i cancelli chiusi a scuola no no ma posso rivedere la scuola vuoi vedere la scuola? eh ma i cancelli sono chiusi non ci fanno entrare eh si vedono le giostrine si vedono le giostrine sì aprite il cancello niente niente non ci fanno entrare dentro il cancello va bene dove vogliamo andare allora mamma? in classe in classe e non ci fanno entrare non ci fanno entrare in classe andiamo tutti al bar Luisa ci offre il caffè va bene andiamo al bar ok dove c'è il bar? qua allora andiamo al bar ehi mi raccomando possiamo entrare nel bar questo è un bar? no questo è un ristorante eh dimmi se c'è l'omino forse entriamo se c'è l'omino forse entriamo? dobbiamo vedere un po' se è aperto il bar dove sta il bar qui? eh quello con questo? questo? la vetrina verde la Haripa ha un buon quale? aspetti era nato era nato era nato era nato ne 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 qual è il bar? eh il bar Andiamo a prenderci un caffè? Qua c'è l'OBS Dov'è signore? Non lo becchiamo Questo bar Dov'è? Qui? No Ci porta a viaggiotto Come che cerco di andare di lì Niente Non ce lo possiamo pigliare sto caffè Ok Ritorniamo su Dove stiamo andando? Stiamo andando a Corso Giannone Andiamo a trovare la preside Sì Ecco qua Siamo andati troppo avanti Dobbiamo tornare indietro Maestro Maestro Ma questa è la scuola di Riccardo Eccola qua la scuola E' la scuola di Riccardo Questa è la scuola di Riccardo E chi è Riccardo? Ma quella è la scuola dove andavo qua Io a E' la scuola di mio fratello E' la scuola di tuo fratello questa? Va bene Andiamo a farci una passeggiata a piazza Vambitelli Ma io la conosco Siamo andati a Via Mazzini Andiamo a trovare Vambitelli Vediamo se ci fanno entrare nella piazza Non ci fanno entrare nella piazza A trovare Vambitelli Ok E qua c'è il comune Vero? Il municipio E? Allora Vi è piaciuta questa passeggiata? E? E' stata bellissima Questa passeggiata? Possiamo ritornare a scuola adesso? Sì Siete stanchi di camminare? Sì Io mi sono andato a scuola A scuola Voglio andare Vuoi andare a scuola? Ok Ritorniamo Ritorniamo Nella nostra classe virtuale Dopo questo bel giro Fuori casa Cal b kontrugata Grazie a tutti Sì Tag Ovcie 整